Radio Radicale, siamo in collegamento con Danilo Toninelli, deputato del Movimento 5 Stelle, membro della Commissione Affari Costituzionali per commentare le motivazioni della consulta sull'Italicom. Mi sembra che la consulta abbia spiegato bene le ragioni, ma anche detto al Parlamento che bisogna lavorare sulla legge elettorale. Sì, diciamo che è tutto confermato rispetto a quanto sappiamo già dal 25 gennaio. Ripeto la nostra soddisfazione perché abbiamo partecipato come sottoscrittore, come membri del Movimento 5 Stelle, ai ricorsi fatti dal team di avvocati anti-Italicom. Siamo molto soddisfatti da una parte, ma veramente molto tristi dall'altra, perché io ricordo perfettamente di aver detto io stesso, a seguito di uno dei due tavoli in diretta streaming col Presidente del Consiglio, ex Presidente Renzi, che il ballottaggio era incostituzionale e ci fu una sorta di battuta che diceva sì facciamo una scommessa. Questa scommessa l'ha vinta quello che lui definisce essere una forza politica inesperta, alla faccia degli esperti. Io sono convinto però di una cosa, questo Parlamento oggi non potrà più e non ha più le condizioni perché sono gli stessi, questa maggioranza è la stessa che ha scritto questa legge incostituzionale anche quando tutti gli dicevano che era tale. L'unica soluzione, come sempre, andiamo dicendo da ormai due mesi a questa parte, è quella di applicare quello che è uscito dalla Corte Costituzionale al Senato e andare a votare, evitando altri disastri. Come ha trovato la bocciatura del doppio turno, così come era stato congegnato, non dell'istituzione del doppio turno, ma del meccanismo di questa legge elettorale sul doppio turno? L'ho trovata assolutamente ovvia, bastava aver frequentato le prime due elezioni di una qualsiasi corso di diritto costituzionale di una qualsiasi università italiana per capire che era evidentemente incostituzionale. La cosa che è veramente abominevole e ci fa veramente sperare che Matteo Renzi abbandoni la politica perché di disastri di questo tipo non se ne erano mai visti nella storia repubblicana, che chiunque, io anche sottoscritto, andava dicendo che non si può parlare di una legge elettorale dell'elezione del sindaco d'Italia, che ha al base ovviamente il ballottaggio, per il semplice fatto che il sindaco è una persona e amministra un comune, mentre la Camera è un istituto collegiale fatto di 630 parlamentari che invece propongono e approvano le leggi, due cose completamente differenti, affermare come ha affermato ovunque in maniera insopportabile, che doveva essere fatta una legge, cioè la sua l'italicum, che garantiva la sera stessa dell'elezione un vincitore, era la cosa fondamentale. Ecco, l'ossature, il Renzi, questo è il disegno, questo è lo specchio di Renzi, questa affermazione che ripeto è Renzi è incostituzionale, questa persona è incostituzionale, io spero veramente che abbandoni la politica. Sui capilista bloccati, come ha trovato le valutazioni della Corte che comunque doveva garantire una legge elettorale applicabile e votabile? Avremmo preferito finissero bocciati anche i capilista bloccati come sono state bocciate le liste bloccate del Porcellum, il principio è lo stesso, un capo di partito o una segreteria di partito che nominano propri fedelissimi garantendo a questi una elezione, andando oltre e venendo prima della scelta di iscritti ad un partito o degli stessi elettori tutti che con le preferenze li potevano esprimere. Però le giustificazioni ovviamente non voglio commentare, non voglio criticare un organo giurisdizionale tanto importante quale la Corte che è il giudice delle leggi. Noi come forza politica i capilista non li utilizzeremo perché faremo le nostre primarie interne e saranno tutti iscritti a dire chi preferiscono rispetto agli altri. Per quanto riguarda il premio di maggioranza, la Corte lo giudica legittimo, noi sappiamo che Casaleggio diceva che un voto vale un voto, voi siete d'accordo con le valutazioni della Corte Costituzionale sulla legittimità del premio? La Corte Costituzionale dice che il 40% è una soglia raggiunta la quale se ti danno poi il 54% non è un premio eccessivo, ma dice un'altra cosa che è fondamentale e che ripeto proprio la bocciatura, l'incapacità e l'analfabetismo costituzionale diretti, che è il ballottaggio incostituzionale. Per una cosa che ripeto qualsiasi persona, non serve un giurista, avrebbe capito perché se tu vai al ballottaggio col 20% il tuo avversario ti arriva secondo, dopo di te prende il 19 e vinci al ballottaggio ti porti a casa il 54% dei seggi, significa che rappresentando il 20% di chi è andato a votare, che magari è il 10% degli aventi diritto al voto in Italia, tu comandi col 55% dei seggi, ma è un abominio ed evidentemente l'hanno bocciato, a noi non piace il premio di maggioranza nazionale, per il semplice fatto che mette al centro il capo politico, non mette al centro i parlamentari rappresentanti del popolo, ma io ritengo che questa valutazione della Corte sia corretta. Un'ultima questione, martedì ci sarà l'ufficio di presidenza della prima commissione, commissione affari costituzionali, dovrete fare i conti con 20 proposte di legge in materia circa, perché altri ne stanno facendo oltre alle 14 che c'erano già in giacenza. Volevo sapere come si aspetta questa discussione? Le aspettative, la prospettiva iniziale è la peggiore che ci possa essere, siamo alle solite, il Parlamento e la democrazia è esternalizzata al Nazareno che è una delle tante sedi, spero che questa almeno la paghino, del partito democratico a Roma, nel senso che la commissione affari costituzionali che è il cuore della democrazia in questo momento dei rappresentanti del popolo, non conta nulla e non può fare nulla fin tanto che il PD non ha trovato la quadra proprio interno e se pensiamo che la quadra proprio interno dipenda dalla distribuzione del nome dei capellisti bloccati tra le varie correnti del partito, io penso che questo sia abominevole e anche per questo, soprattutto per questo, chiediamo di fare la cosa più certosina e veloce e giusta possibile che è quella di prendere la legge scritta ai noi perché non dovrebbe essere la Corte Costituzionale a farlo malparlamento, ma questi sono incapaci, scritta dalla Corte e andare a votare subito. Bene, la ringraziamo per la chiarezza delle ragioni che ci ha esposto, grazie a Danilo Toninelli e al Movimento 5 Stelle.